TG School Santa Maria TG School Santa Maria Tanto, avendo avuto in famiglia un caso di leucemia, so cosa si prova nel rischiare di perdere una persona cara. Ed è un bene sensibilizzare sempre più persone per una giusta causa. L'importante è non perdere mai la speranza. Questa è una malattia che bisogna debellare. Molti ce la stanno facendo e altri purtroppo no. E quindi non ci devono essere più questi che non ce la fanno. Spero di assistere a breve ad altri eventi di questo genere. Lo speriamo anche noi. Dal teatro è tutto. Restituiamo la linea allo studio. Grazie, Miguel. E ora sentiamo il parere del produttore della serata, Luca Mincuzzi. Come è stato mettere in piedi questo grande evento? Non è stato affatto semplice realizzare la schetta della serata, nonostante la grandissima disponibilità da parte degli artisti nella lotta contro la leucemia. Regruppare un'equipe d'artisti così importante ha reso possibile la buona riuscita di questa serata. A quale associazione andrà il ricavato? Verrà devoluto l'ospedale San Giovanni di Roma e assieme ai fondi della unità competenti verranno aiutare sempre più persone affette da questa malattia. Bene, ce lo auguriamo anche noi. E nel salutarvi vi lasciamo ad un estratto dell'intervista al grande interprete di Renato Zero, Daniele Sinasce. Con questo è tutto. Arrivederci alla prossima edizione. Lei parteciva spesso ai eventi di beneficenza? Fondamentalmente non bisognerebbe fare molta pubblicità quando si fa qualcosa per gli altri. Però amo mettere a disposizione la mia arte per fini benefici. Quindi ritengo sacrosanto e forse anche obbligatorio sarebbe prestare la propria opera artistica per questi fini. Devono continuare gli organizzatori a fare eventi di questo genere? Per accidenti devono obbligatoriamente continuare a fare questa attività di sensibilizzazione verso gli altri. È fondamentale aiutare chi è in difficoltà e chi è stato meno fortunato di noi. È un dovere morale e deve andare a finire in un dovere esecutivo. C'è quello di adoperare il nostro tempo non soltanto davanti alla televisione o davanti a Facebook. Ma impiegare un pochino, un pochino, un pochino, un pochino del nostro tempo per questi obiettivi benefici. È fondamentale e fa bene al cuore. I migliori anni della nostra vita È fondamentale e fa bene al cuore. È fondamentale e fa bene al cuore.